Il Popolo della Famiglia è nato a Roma l'11 marzo 2016. Le basi principali su cui ci fondiamo sono la difesa della famiglia naturale intesa uomo-donna, la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e la difesa della purezza dei nostri figli, dicendo un chiaro no all'ideologia di genere. Dopo aver raccolto 43.534 firme su 97 collegi, anche la Calabria parteciperà con la lista dei suoi candidati alle prossime elezioni del 4 marzo. Insieme faremo la storia. Voi potete aiutarci, anzi voi potrete fare la storia mettendo una croce sul simbolo del Popolo della Famiglia. Alzati e cammina, dici a noi ora Gesù. E' tempo di partire, dai! Vieni anche tu, diciamo basta a chi ci dice che tutto è libertà, che per i figli non c'è il diritto ad una mamma e ad un papà. Inalziamo i nostri toni per cantare la verità, le nostre armi saranno i fiori per difendere la civiltà. E' una famiglia, un grande popolo, Dio sarà già un solo cuore, un grande amore, il mare ci crederà, Siamo il popolo della famiglia. Dio sarà un solo cuore, Dio sarà un solo cuore, Dio sarà un solo cuore, e per i figli non c'è il diritto ad una mamma e ad un papà. e per i figli non c'è il diritto ad una mamma e 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 ad una mamma. Grazie a tutti!